Eccomi qua, è un po' che non parlo, ma sono stato inglobato da un nuovo progetto. Vado subito al dunque e ve lo racconto. Ho iniziato a fare video non solo più per passione e hobby, ma anche per lavoro. Lavoro lo uso un po' con attenzione perché sto ingranando, però adesso vi faccio vedere qualcosa che ho già fatto. Questo che vi faccio vedere subito è il trailer per la gara di nuoto che si è svolta. E adesso vi faccio vedere anche il video compreso della gara. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.